Lasciamo la parola al professor Noè per un saluto ai suoi colleghi. Io ragazzi ho già parlato tanto quindi mi limiterò semplicemente a farvi gli auguri però come la vostra collega rappresentante del consiglio di amministrazione ha citato Francesco Arcieri vorrei citarlo anch'io per il grande contributo che sta dando alla crescita della scuola. Grazie. Chiamiamo ora i laureati in ingegneria gestionale triennale. Adamo Andrea Arcieri Francesco Baselli Bianca Belgiovine Edoardo Berra Andrea Bianchi Federico Borsani Jacopo Canino Walter Caravà Chiara Carnesecchi Simone Paolo Chiesa Visconti Mario Cimmino Francesco Citro Alessandra Clerici Riccardo Colombo Alessandro Colombo Riccardo Cominato Gianluca Corti Matteo Corti Matteo Crupi Alberto Darmento Samuele Dalosio Greta Dragoti Cristina Fausti Alessia Galeandro Andrea Garritano Riccardo Gelfi Uma Giampani Marta Grampa Giorgia Grampa Giorgia Maggio Mario Maggio Mario Maielli Andrea Maiuri Gianluca Marsana Lorenzo Mazza Maria Chiara Miola Federico Miola Federico Nicastri Giulio Pellegrino Alessandro Pessina Francesca Pirola Fabio Raimondi Lucilla Rausa Alessandro Rausa Alessandro Ronci Gabriele Salemi Lorenzo Scaccabarozzi Chiara Sommaruga Edoardo Sommaruga Edoardo Stefanelli Antonella Tandurella Claudio Trespo Li Chiara Valli Filippo Vilca Rivera Arianna Zambello Luca Zanotti Fragonara Matteo Ora i laureati Triennale In Ingegnere Gestionale 110 su 110 Lode Ciovati Andrea Diterbo Matteo In Ingegnere Deve fare la foto Deve fare la foto con questi Grazie. 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 Grazie.